è nati tocca amici al locarno lo canno e tu si rovi ah filmate cinque minuti e devo fare non direi ci caio direi ci sono andiamo a prendere aspetta Robi andiamo prima qua siamo in locarno con Robi, Michele e lei e lei e lei e lei Ancora 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 Un'usessi Ancora Ancora Un'usessi Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti.